Sono Alberto Antonello, Web Project Manager di Progress Community, un progetto di Progress Pubblicità. Sono lieto di presentarvi Young Digital Lab, ideato da Michele Polico e una tavola rotonda che raduna i migliori giovani che più si stanno affermando nel panorama web marketing italiano. Una tavola rotonda per capire come il web sta cambiando e come poterlo affrontare.